Il 28esimo, Weha per Kleivert, contrasto con Favalli, il direttore di gara fa proseguire. Rivediamo l'immagine dal basso. E' affatto bene. Chiederei subito un parere a Giovanni Galli. Sì, sì, Favalli colpisce la palla, la svirgola, però colpisce la palla, ecco, in questo momento. Poi dopo, nel proseguo della corsa, va addosso all'attaccante, gli impedisce però di poter intervenire sul pallone. Di giocare. Sentiamo Teivi, perché io non sono molto d'accordo con Giovanni, per esempio. Rivediamo le immagini del frate, per favore. Se osservate il piede di Kleivert, è lui che con la suola tocca la palla per primo, anticipa. Guarda, schiaccia la palla a terra, proprio in questo momento. Ma infatti, Favalli ugualmente tocca la palla, vedi? No, la palla gli passa sotto, guarda. A me dà la sensazione. Lui schiaccia la palla con la suola, la palla passa sotto la gamba tesa di Favalli. Parere di Taibi e di Ubre. E poi di Giovanni Trapattoni da Monaco. Ma è un rigore che secondo me si può anche dare, visto quello che... Molto difficile da vedere per l'arbitro. È difficile per l'arbitro, mi rendo conto, anche se... Sembra che sia Kleivert prima a prendere la palla, però sa. Mi rendo conto che in queste circostanze è un po' difficile. Qui siamo già sull'episodio successivo. Questo è l'episodio che ha visto protagonisti al trentesimo, Jugovic e Boban. Parere di Dario Ugler. E non abbiamo visto. Poteva starci, qua ci poteva stare la rigola. C'è Boban che anticipa, mette la palla avanti in profondità, Jugovic. Intervento di Jugovic sul giocatore del Mille. Rivediamo. Vediamo dall'altra immagine del frate, perché questo replay è un pochino troppo stretto. Eh, questo qui è più evidente. Degli annesta di spostarsi. Dà un po' l'impressione, Jugovic, di disinteressarsi completamente dalla palla e di andare dritto sull'uomo. Sentiamo Trapattoni, che non è parte in causa e quindi... Beh, è un fallo, un po' simile poi al calcio di rigore che la Lazio ha avuto, in una posizione diversa, no? E signori, in quella circostanza, era solo. Credo che qui l'albitro abbia tenuto conto di due avversari che potevano chiudere. Ecco l'ultimo episodio, quello che ha fatto scatenare le polemiche. Il quarantacinquesimo. Colpo di testa verso l'attacco del Milan. Vedete la respinta, arriva Niedved, anticipa di testa, poi c'è Maldini, c'è Carini, che ha le spalle e comanda il calcio di rigore. Adesso pregherei Marco Del Frate di fermare l'azione esattamente sull'appoggio di Maldini. Per fare vedere se c'è contatto tra i due oppure no. Questa è l'immagine, vedete, questo è l'appoggio di Maldini che appoggia a terra. E questo è quello che è successo in seguito. E' caduto dalla paura. Chiederei subito un parere a Trapattoni. Io avevo visto l'immagine da un'altra angolazione e mi sembrava che Maldini avesse un contatto con Nevedi che pensavo fosse signore. Qui invece si vede che se non gli pesta e non gli pesta il piede perché il piede si alza. Vedi che c'è distanza tra i due piedi. C'è distanza, esattamente, sì. Purtroppo si è tratti a volte in inganno da queste situazioni in movimento.